E noi spettiamo i corridori con le volacce d'acqua fresca dove l'ol mio, dove l'olto e mezzo al gruppo noi ci apparia e la volata che l'è una lama, le ruote alte per leggere ancora le braccia al cielo e un basatuti e per la mamma gli è sempre i fior e per la mamma gli è sempre i fior Buonasera, buonasera e bentrovati con Teleciclismo Buonasera cari amici Siamo in pieno clima di ferie è entrato a pieno titolo il mese d'agosto e le nostre puntate cambiano di prospettiva Per quale motivo? Da oggi per le prossime due, quindi per tre settimane Teleciclismo non sarà in diretta come di consueto ma saremo appunto registrati per cui per queste tre volte non potrete intervenire in diretta con noi attraverso i nostri numeri di telefono Tutto il resto rimane invariato avremo i nostri servizi avremo aggiornate le nostre classifiche nonché il nostro concorso premia lo scatto Un saluto, salutiamo anche Tina, Roldano e Andrea Ciao, buonasera a tutti Buonasera ben ritrovati E come sempre apriamo con la copertina Il ciclismo da questa settimana ha una stella in più che brilla in cielo è la stella di Björg Lambrecht il 22enne belga che ha visto infrangersi i propri sogni contro il cemento a 50 km dal traguardo della terza tappa del Giro di Polonia Un'altra giovane vita spezzata un'altra promessa delle due ruote da onorare e ricordare La morte di Björg ha visto il cordoglio di tutto il mondo sportivo ma questo non basta per rispondere ai tanti interrogativi che la sua prematura scomparsa ha lasciato in tutti gli appassionati Che il ciclismo sia una disciplina pericolosa è ormai evidente ma tutti noi abbiamo l'obbligo di chiederci Cosa possiamo fare per renderla più sicura? Piccoli e grandi cambiamenti sono ormai necessari per far sì che non si muoia più di passione per il ciclismo Björg non era certo uno sprovveduto secondo ai mondiali under 23 dello scorso anno secondo alla tour dell'avenire e al giro della Valle d'Aosta della 2017 era uno degli scalatori più promettenti e questo, se possibile, rende la sua morte ancora più assurda e dolorosa Eliminare i rischi per chi va in bicicletta forse è impossibile ma oggi il modo migliore per far vivere il ricordo di Björg è aprire un confronto serio tra organizzatori, team e atleti per lavorare insieme al fine di garantire maggior sicurezza ai corridori di tutto il mondo Ritorniamo in studio Chiara, è il momento di vedere anche il nostro concorso vediamo subito le foto di questa settimana di Premi allo Scatto Grazie a tutti! e adesso presentiamo il nostro è un piacere ritrovare di nuovo con noi il dottor Stefano Busolin presidente di Ascotrade Buonasera, grazie dell'invito Apriamo subito con un interrogativo che è strettamente legato allo sport un'azienda che rivolge parte della risorsa per promuovere anche le attività di carattere sportivo al di là poi degli impegni di carattere istituzionale a breve scadenza ce n'è uno di importante fra una settimana insomma no saremo a Poggiana l'azienda che con tanto a vigore appoggia questa iniziativa che dà lustro al ciclismo però dà anche ritorni importanti ritengo è così? beh guardi noi sosteniamo questo evento ormai da qualche anno diciamo anche che quest'anno ci siamo impegnati un po' di più abbiamo dato una mano in modo un po' più consistente beh per noi è un'attività importante l'attenzione che rivolgiamo al territorio il ciclismo in provincia di Treviso insomma è un must nel Veneto si dice che il Veneto è la patria del ciclismo ma a Treviso il ciclismo è un must questo poi è anche un evento che riguarda i futuri professionisti e quindi c'è tanta storia c'è anche tanto futuro storia perché l'edizione adesso non ricordo con precisione ma insomma ormai sono 44esima edizione però c'è tanto futuro perché parliamo appunto dei giovani che poi diventeranno professionisti siamo anche ai vertici del ciclismo dilettantistico se vogliamo sì assolutamente sì una gara anche che ha espresso grandissimi valori in passato e che anche quest'anno ci si attende ad altissimo livello ma soprattutto grandissima presenza di pubblico se il Veneto è la patria del ciclismo Poggiana probabilmente è una delle capitali di quella patria certo che gli organizzatori hanno usiamo questo termine che è specifico proprio necessità ecco di avere il supporto di aziende importanti per promuovere e veicolare insomma questo messaggio se consideriamo che proprio questo evento sta in piedi grazie alla collaborazione di più di 200 volontari diciamo abbiamo detto tutto se non ci fossero le aziende che danno una mano non si farebbe l'evento però è altrettanto vero che se non ci fossero i volontari non si farebbe niente allo stesso quindi c'è il giusto equilibrio tra il volontariato che è fondamentale per realizzare qualcosa di importante e per dare anche la possibilità alle giovani promesse poi di diventare in questo caso i professionisti del futuro però è altrettanto vero che dall'altra parte le aziende devono fare chi vive il territorio deve provare a fare la sua parte insomma noi siamo qui anche per questo il territorio è uno sport ecologico aria pulita una delle vostre iniziative anche e allora su questa domanda però ci fermiamo perché è già il momento Chiara di vedere il nostro primo servizio allora diamo la linea alla regia e vediamo cosa ci farà vedere un servizio per le aziende uno sguardo sul futuro dei giovani con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani ciclismo giovanile a Sarmede in provincia di Treviso e Bike Team Cansilio che organizza con il patrocino del comune di Sarmede la collaborazione delle associazioni locali un appuntamento legato al ciclismo giovanile impregnato nel quinto memory al Vito Favero dodicesimo gran premio comune di Sarmede dodicesimo trofeo banca delle prealpi ciclismo giovanile in un centro storico un centro magico il paese delle fiabe d'arte, magia e fantasia i corridori, questi giovani corridori gireranno proprio nel centro storico potranno apprezzare anche le bellezze di questa località località unica, località storica già schierati intanto alla partenza i corridori che prendono parte alla categoria G1 complessivamente ben 163 i corridori iscritti a questo appuntamento con il Presidente Gino Rova e i suoi collaboratori a mettere in cantiere anno dopo anno questa manifestazione girano su un percorso completamente chiuso al traffico ovviamente 1050 metri con il crescere poi delle categorie aumentano anche i giri due le tornate per la categoria G1 che si sta oramai portando sul traguardo e quindi vedremo la conclusione intanto di questa prima prova dove Gabriele Nadal il corridore della Sacilese precede Francesco Barazzuol e per il terzo posto Giovanni Ghirardo ecco la conclusione fra le femminucce Chiara Pasetti di Sprint Evidor Lavallata anticipa la compagna di squadra Aurora Titone e il terzo posto invece Giulia Dallacosta ed ecco la conclusione della prova ma ritornando a Bike Team Cansilio la società trevigiana che propone prima del completamento della stagione agonistica il 22 settembre prossimo l'appuntamento con i corridori juniores e poi il 29 settembre off track e quindi ancora momenti agonistici prima del completamento di questa annata agonistica nel frattempo sono già pronti alla partenza i corridori iscritti per la categoria G2 ecco le femminucce che prendono il via un po' prima dei maschietti aumentano i giri come dicevo prima con il passare delle con il crescere per meglio dire delle categorie e quindi la manifestazione diventa via via sempre più coinvolgente trattandosi di attività ludica ciclismo giovanile un gioco insomma per questi ragazzini coinvolta l'amministrazione comunale di Sarmede ha presenziato il sindaco Larry Pizzolle sindaco di Sarmede che sentiremo poi anche nel suo commento prima della conclusione in una manifestazione che come già dicevo coinvolge l'intera comunità è un momento atteso l'apertura per il ciclismo giovanile linfa vitale dunque per quelli che sono i rincacci passatemi il termine delle categorie superiori nel frattempo osserviamo anche le peculiarità le caratteristiche del percorso di gara mentre per la conclusione categoria G2 meschile è Justine Mamma Liga del San Vendemiano che vince su Vincenzo Iavasso terzo posto per Nicola Quaia fra le femminucce si impone Marta Agrassi delle pedale Marenese che anticipa Michela De Giusti e Sofia Piazzone conclusione dunque per la categoria G2 pronti subito difilati i corridori iscritti nella categoria G3 molto partecipate le varie batterie in programma intanto cominciano a muovere le femminucce quasi 170 gli iscritti quindi è anche una gratificazione questa per gli organizzatori che tanto lavorano per rendere bello e accattivante e coinvolgente principalmente per i ragazzini i percorsi e le manifestazioni che nel corso della stagione si vanno a riproporre con Bike Team Cancillio società che è molto impegnata nella promozione del ciclismo e poi anche con l'attività legata e mi ripeto al ciclismo giovanile in coinvolgimento generale tutta la comunità stavolta a Sarmede ricordando appunto il paese delle fiabe un paese d'arte di magia e di fantasia il centro storico dunque che accoglie questi avvenimenti in una giornata che è dedicata poi al Memorial Vito Favero quinta edizione parleremo fra poco anche di questo atleta che ha reso grande l'Italia nel mondo concludono i G3 Matteo Zago del Velo Club San Vendemiano che anticipa Federico Bottegal e il terzo posto per Alessandro Crestan fra le femminucce primo posto di Giulia Branca Leone dell'Unione Ciclistica Foen segue Rachele Pasette e Aurora da Ross già schierati come potete vedere intanto i corridori della categoria G4 si alternano con ritmo frequente con molta regolarità puntualità insomma bello anche tutto quello che è legato ai preamboli preparativi della prova partenza dunque sempre le femminucce un po' più avanti ma stavamo dicendo del Memorial Vito Favero in questo luogo dove lui ha vissuto dove la moglie Giuseppina e la figlia Tiziana in questa circostanza ma non solo hanno presenziato all'avvenimento che ricorda appunto Vito Favero che ha vestito poi fra l'altro tra gli altri successi anche la maglia gialla al Tour de France ed è un momento importante questo per ricordare una persona un uomo appassionato e grande interprete del ciclismo che ha lasciato un segno indelebile proprio su questi luoghi torniamo intanto alla competizione sono i corridori della categoria G4 oramai sta volgendo al termine anche questa prova con ritmo via via sempre più sostenuto affrontano le varie fasi del percorso di gara mentre siamo già sul traguardo ed è Andrea Vivian di Bicisport che passa davanti al compagno Giovanni Beltrame compagno di squadra il terzo posto per Ari Ivo Alfierre nella sezione femminile è Ilari Campagnolo dell'Unione Ciclistica Loria davanti alla compagna Francesca Ferraro che prende il secondo posto terza invece Maddalena Pascutte e siamo già pronti sulla linea di partenza con un'altra categoria la categoria G5 maschietti e femminucce intanto troviamo Gino Rova che sta dialogando con i suoi amici i suoi collaboratori fra una partenza e l'altra questa che vediamo con la bandierina in mano per dare il via è la signora Tiziana che è la figlia di Vito Favaro ecco che sventola la bandierina e prendono il via gli iscritti nella categoria G5 più chilometri da percorrere la velocità sembra decisamente più interessante più coinvolgente quindi decisamente bello da vedere in questa prova che si è svolta al mattino e che è coinvolto assieme alla comunità anche le famiglie dei ragazzini che hanno partecipato a questo appuntamento intanto abbiamo grazie al nostro operatore anche le immagini in movimento con i corridori un po' più grandicelli e vediamo la soggettiva anche su questi aspetti legati alle riprese mentre ci riproponiamo ancora con i passaggi all'interno del centro storico dove con molta frequenza si incontrano le pareti affrescate e quindi molto bello da vedere un paese da visitare per le peculiarità che nasconde Sarmade in provincia di Treviso e con la categoria G5 che andiamo adesso a concludere per quanto riguarda i maschietti Lorenzo Campagnolo di Bicisport che vince su El Giardini del San Vendemiano e terzo posto per Nicola Padovana ancora per il vero club San Vendemiano fra le femminucce si impone Noemi Tosin dell'Unione Ciclistica Loria che anticipa Carlotta Petris e Sofia Bailo si stanno preparando intanto i corridori per la categoria G6 l'ultima batteria in programma per questa giornata molto partecipata davanti sempre alle femminucce a dare la partenza a quest'ultima batteria corridori G6 che hanno appreso decisamente bene i rudimenti oramai di questa disciplina basti pensare che dal prossimo anno dalla prossima stagione entreranno in una sezione quanto mai più coinvolgente saranno quindi corridori esordienti ma vediamo il mulinare su questo percorso dove aumenta la velocità dove tutto diventa più coinvolgente in questa mattinata di Sarmede che ha portato assieme alla comunità poi anche le famiglie i genitori dei ragazzini impegnati su questa manifestazione organizzata da Bike Team Cansiglio e valevole per il memory al Vito Favaro per il Gran Premio Comune di Sarmede per il trofeo Banca Prealpi categorie giovanili che ormai si stanno portando verso la conclusione poi sentiremo anche le interviste con il sindaco e il presidente del gruppo organizzatore mentre la soggettiva ci fa vedere come pedalano bene come sono molto bene impostati i corridori ripeto la categoria G6 per il finale siamo sulle traguardo con Kevin Ravaioli del San Vendemiano che precede i compagni Cover Massoline Pegolo Bordignon e Pasette per le femminucce questa è la dodicesima edizione della gara dei giovanissimi a Sarmede ma quello che ancora più mi rincuora è che è il quinto memoria al Vito Favaro quindi una gara ciclistica dei giovanissimi dedicata proprio a lui affinché i giovani incarnino quel senso di dovere di sacrificio e di altrettanta umiltà di un grande campione che ha reso Sarmede conosciuto a livello europeo è un onore ma è anche un atto dovuto da parte della comunità di Sarmede di questa amministrazione comunale che deve a Vito i valori più alti del ciclismo contentissimo della participazione dei ragazzi un bel numero di participazione il che ci fa onore di avere tutte queste società in questa gara che come ha ricordato il sindaco e che noi facciamo col cuore o della passione ci mettiamo anche il cuore perché ricordiamo siamo una figura mitica di questi luoghi giornata meravigliosa organizzazione splendida mi hanno detto circuito bellissimo più di così non si può avere della vita quando si fa una gara giovanissimi Gaerne da 50 anni leader mondiale della calzatura sportiva made in Italy l'innovazione tecnologica la ricerca dei materiali la cura artigianale hanno portato allo sviluppo di G-stilo la scarpa per ciclismo indossata dai migliori atleti dello scenario mondiale i prodotti Gaerne sono da sempre sinonimo di qualità ritorniamo ancora dallo studio di teleciclismo ed è il momento di aggiornare le classifiche cominciamo come sempre dal Gran Premio Nazionale FWR Baronti 85 Viaggi Villier Mantiene la posizione di leader della classifica Andrea Piccolo con 220 punti secondo è Antonio Tiberi con 128 al terzo posto Simone Racani con 125 punti al quarto Alessio Martinelli con 101 punto e quinto Mattia Vacek con 90 punti Ecco e dopo le classifiche del Gran Premio FWR Baronti riprendiamo dalla domanda che avevamo lasciato in sospeso di Tina Stefano Busolin si parlava di ciclismo ciclismo sport ecologico così come le vostre iniziative sull'aria pulita l'aria rispetto dell'ambiente Ascotrade rispetto all'ambiente Sì Ascotrade ha inteso realizzare un progetto che si chiama appunto Area Pulita che ha impegnato la nostra azienda a restituire a restituire qualcosa di importante verso l'ambiente ogni azienda che fa la sua attività in qualche modo inquina noi ci siamo insomma siamo guardati negli occhi e abbiamo detto bene cosa possiamo fare noi per il nostro territorio siamo partiti con due progetti importanti il primo riguarda la realizzazione di un bosco è un bosco diffuso la fabbrica dell'aria l'abbiamo chiamato proprio per dare l'idea del fatto che i nostri 4.000 alberi che a fine ciclo verranno piantati tra il Friuli e il Veneto saranno in grado di abbattere 2.000 tonnellate di CO2 che è l'emissione che tutte le aziende fanno poi nella quantità ognuno poi dipende dal tipo di attività che fa e noi abbiamo inteso portare il nostro contributo all'ambiente in questo modo quindi siamo partiti nel 2018 a Pordenone con 1.000 alberi 1.000 li abbiamo messi qualche mese fa nel comune di Morgano ne metteremo 1.000 nel comune di Treviso entro la fine dell'anno e sempre entro la fine dell'anno poi saremo impegnati nel comune di Vicenza o in provincia di Vicenza adesso stiamo ancora vedendo e credo che questo sia quello che le aziende ancora una volta devono impegnarsi a fare peraltro ho concluso peraltro il mercato premia le aziende virtuose che vanno in questa direzione e quindi c'è anche un atteggiamento coerente da parte nostra nei confronti del mercato bisogna dire anche una cosa fondamentale che più alberi ci sono c'è stato anche un comunicato nei giorni scorsi anche della regione Veneto più alberi ci sono e meno c'è calore si abbassa addirittura la temperatura di un grado e mezzo questo è evidente sottolineare anche il fatto che noi lo facciamo come azienda lo facciamo molto volentieri devo dire che ultimamente anche le pubbliche amministrazioni stanno andando in questa direzione a notizia di qualche giorno fa la provincia di Treviso ha regalato 1200 alberi alle famiglie trevisiane e si sono presentati 1200 ragazzi quindi è bellissima questa cosa dei giovani che vogliono contribuire ognuno porta il suo secchio d'acqua come dico sempre io tutti vogliono contribuire chi ha la possibilità di avere il giardino mette il suo albero ma se tutti facciamo questa attività veramente diamo un aiuto importante alla dieta ma ci stiamo conoscendo che cominciano adesso le aziende a preoccuparsi è già da anni che si parla che bisogna cambiare però tutti hanno tirato avanti come erano abituati da adesso con tutti ne parla adesso si comincia a far sul serio perché si sono accorti che veramente stiamo andando verso la fine direi che è un fatto culturale i cambiamenti hanno bisogno di tempo e adesso è arrivato il momento che ognuno faccia la sua parte ma l'opera di sensibilizzazione è così diffusa o è ancora un po' a macchia di leopardo? ma io non lo so le sto raccontando quello che facciamo noi nella nostra azienda le posso dire che nella nostra azienda c'è questa giusta sensibilità e lo stiamo dimostrando con i fatti dopo magari parleremo dell'altra parte del progetto che riguarda la mobilità elettrica però è fondamentale chi può permetterselo perché è evidente che non tutte le aziende sono nella disponibilità o sono in giuste condizioni per farlo ma chi può permetterselo deve portare il suo contributo all'ambiente e come dicevo prima la cosa più bella è che il mercato ti premia cioè io spendo i soldi porto i miei soldi compro il prodotto acquisto il servizio in quella società che mi dimostra che si impegna per contribuire a migliorare l'ambiente anche nel mondo del ciclismo c'è questa opera di sensibilizzazione Andrea già da tempo se ne parla per raccogliere anche nell'ambito delle manifestazioni non lasciare sparpagliati lungo le vie lungo le strade la prima iniziativa è stata proprio quella delle zone green quindi dove buttare borracce, cartine e quant'altro però si sta proseguendo l'UCI ha promosso le organizzazioni ad impatto zero cioè quelle organizzazioni che quando organizzano mondiali europei e quant'altro riescono ad utilizzare tutti i materiali riutilizzabili e comunque smontabili e che non lasciano non impattano sull'ambiente e poi si va tanto oltre perché abbiamo parlato abbiamo accennato della mobilità elettrica poi ne parleremo meglio ma provate solo a pensare quante automobili quante ammiraglie seguono il gruppo di 200 ciclisti se tutte quelle macchine fossero elettriche se tutte le moto dei servizi fossero elettriche allora forse potremmo parlare effettivamente di un ciclismo ad impatto zero siamo già giunti al momento di un'altra pausa e quindi Chiara sentiamo un po' cosa c'è di nuovo l'in allergie per il secondo servizio Permac soluzioni per il futuro pavimenti e rivestimenti in resina sintocrate floor per il settore commerciale e industriale Permac a Conegliano 35esima edizione la settimana scorsa la settimana scorsa abbiamo celebrato 40 anni dell'anniversario di questo gruppo ciclistico i 25 anni di presidenza di Moreno Zonta il ciclismo qui con loro e anche Young Team sono due associazioni importantissime non è solo una gara ciclistica loro si occupano di gestire bambini e bambine creano i futuri uomini e donne del domani quindi la loro importanza per noi amministratori anche i cittadini è molto grande noi possiamo solo ringraziarli li ringrazio anche a nome del sindaco che oggi non è potuto essere presente la loro presenza per il panorama arcadese è sempre stata e sempre sarà importante Progetti per quanto riguarda il mondo del ciclismo ovvero piste ciclabili e quant'altro nel comune di Alcade? Ne stiamo discutendo di cercare di collegare le vie limitrofe che portano che ne so a Viznadello Povegliano ma non dipende solo da noi ci sono diversi fattori però l'idea c'è l'idea c'è di affiancare di dare sempre un aiuto alle nostre associazioni sportive in questo caso i ciclisti però non sempre si può dare sempre un aiuto dal nostro punto di vista quando ci sarà possibilità noi daremo sempre l'aiuto lo abbiamo sempre fatto se riusciremo sarà bello creare anche un circuito sicuro per l'associazione Young Team per far correre i bambini e i bambini in maniera sicura però richiederà tempo anche questo progetto Il ciclismo è di casa ad Arcade come abbiamo sentito dalle parole dell'assessore allo sport anche grazie al lavoro del gruppo ciclistico Arcade del presidente Moreno Zonta assistito come sempre dai vice presidenti Antonio Gallina e Andrea Barbone da un gruppo di volontari che ogni anno si prestano a mettere in cantiere tante attività tra cui anche la 35esima edizione del Gran Premio ciclisti di Arcade una classica del calendario Veneto che come vedete nelle immagini è già in fase di trasferimento verso il chilometro zero chilometro zero che è posto in corrispondenza dell'azienda Pavan Ernesto e Figli SPA un'azienda attiva da 150 anni sotto il marchio ormai divenuto famoso dell'Ancora una azienda produttrice di un'ampia gamma di spatole attrezzature per l'edilizia e qui che viene l'abbassamento della bandiera a scacchi e il via ufficiale per i 154 chilometri in programma abbiamo visto prendere il via ben 105 atleti dei 111 iscritti dicevamo 154 chilometri suddivisi in una prima parte pianeggiante lungo il circuito di Arcade da ripetere ben 6 volte poi ci si sposta sul Montello per andare ad affrontare per 5 volte la presa 5 del Montello quella dei Santi Angeli per poi andare a percorrere l'intera dorsale e tornare nuovamente in salita il finale è pianeggiante con un'ultima tornata simile a quelle iniziali e come vedete con l'immagine ci siamo già spostati al chilometro 20 siamo al nuovo passaggio di fronte all'azienda Pavan ed è qui che prende in largo la prima azione di giornata a tentarla sono 9 atleti si tratta del dorsale numero 1 Emanuele Barison della Work Service Videa Coppigazzera di Lorenzo Affaticati e Gabriele Spadoni della Cycling Team Guerciotti di Stefano Di Benedetto della Pedale Scaligero Achille Bertizzolo della Northwave Coffee Lock Gregorio Ferri della Zalfero Mobile Desiree Fior Riccardo Dalla Pola della Gaia Plast Bibanese di Nicola Sarinaldi e Simone Zandomeneghi della Iseo Rime Carnovali questi 9 atleti quando siamo nuovamente all'entrata di Arcade riescono a guadagnare un vantaggio massimo di 1 minuto e 50 secondi sul gruppo un gruppo trainato dalle maglie della General Store la formazione veronese verde giallo nera che ci tiene a fare bene ad Arcade ma prima di andare a vedere come andrà a finire l'azione di questi 9 attaccanti la linea torna a Tina Ruggeri perché in zona a traguardo ha un altro ospite ai propri microfoni Gianfranco Gasparetto è direttore sportivo nel settore della mountain bike ma soprattutto per quanto riguarda il Gran Premio ciclisti di Arcade gestisce un po' tutta l'organizzazione insomma Arcade sempre più città del ciclismo città dello sport si è da 35 anni che cerchiamo di portare avanti questo avvenimento che per noi è importante abbiamo più di 100 persone che presidiano gli incroci che si occupano della sicurezza sulle strade e da diversi giorni che stiamo cercando di mettere la macchina operativa al massimo per rendere questo appuntamento efficiente più possibile insomma la gestione delle strade salendo sul mortello non è sempre facile di fatti anche perché qua ci sono spesso gare domenicali quindi la gente che si muove ha dei problemi però con un po' di rispetto si riesce un po' a condividere la strada sia con gli automobilisti che con noi ciclisti insomma quanto importante è questa corsa per il comune di Arcade? è un motivo di orgoglio visto sia l'assessore sia il sindaco che ci tengono parecchio e gli sforzi che stiamo facendo sono spesso coadiuvati dal comune di Arcade Cosa significa collaborare con Moreno Zonta? Moreno è una macchina da guerra inarrestabile è una valanga di idee che a volte ti trova sproveduto nel seguirlo però è veramente una persona in gamba è uno che dà sempre la parola di conforto anche nei momenti più difficili che un avvenimento può dare e spinge sempre per andare avanti è molto importante averlo E dunque un grande sforzo organizzativo quello del gruppo ciclistico Arcade che merita tutto l'impegno dei 105 protagonisti del GP ciclisti di Arcade è una prova che sta entrando nel vivo perché con i 9 battistrada siamo usciti dal circuito iniziale e ci stiamo dirigendo verso le rampe del Montello verso quella presa 5 che sarà il banco di prova per le ambizioni di questi 9 attaccanti ma anche del gruppo i fuggitivi in questa fase viaggiano con 1 minuto e 10 secondi di vantaggio sul resto del gruppo e grande attenzione tra i battistrada rivolta a Gregorio Ferri che sabato sarà chiamato ad essere protagonista con la maglia della nazionale italiana ai campionati europei in programma intero-olandese ad Eichmar lui è infatti uno dei convocati dal CT Marino Amadori in vista della prova continentale stiamo ormai all'imbocco delle rampe del Montello e dunque si inizia a fare sul serio il gruppo si avvicina ancora ed è segnalato da radiocorsa a 53 secondi da questi 9 attaccanti della prima ora e dunque in testa alla corsa a mettersi a dettare il ritmo sono le maglie della Iseo Rime Carnovali la formazione diretta da Daniele Calosso che è apparsa in grande forma nelle ultime settimane sono andati a segno ad Ornago e a Boario e dunque sono pronti per fare bene anche ad Arcade questa è l'unica formazione continental alla via una piccola curiosità di questo Gran Premio Ciclisti di Arcade mentre vedete che è anche Gregorio Ferri a dimostrare di avere un ottimo colpo di pedale e a me porsi in testa ai 9 fuggitivi intanto vedete che dal gruppo rientrano due atleti si tratta di Francesco Di Felice della General Store e di Sebastiano Mantovani della Viris Vigevano dunque mentre altri attaccanti stanno perdendo contatto come è il caso del dorsale numero 38 del Cycling Guerciotti Gabriele Spadoni in difficoltà siamo ormai al primo passaggio sul Gran Premio della Montagna a transitare per primo è proprio Francesco Di Felice il pescarese che è dato in grande forma capitano della General Store dietro però non ci stanno vedete che sono proprio le maglie della Zalfero Mobile Desiree Fior a reagire al rientro in testa alla corsa di Francesco Di Felice uno dei più pericolosi al via e proprio al passaggio del primo Gran Premio della Montagna tutta la corsa viene cronometrata in appena 35 secondi vedete siamo già nuovamente sulle rampe della Montello e questa volta ad accelerare dalla testa del gruppo è il dorsale numero 86 si tratta del bolognese Marco Landi già protagonista in diverse occasioni quest'anno due vittorie all'attivo per lui una lunghissima fuga alla giro del Piave e anche ad Arcade Marco Landi decide di riportarsi sulle ruote dei Battistrada sulla sua ruota però attenzione perché ci sono tutti più attesi tutti i migliori di giornata tutti i migliori del gruppo c'è anche il dorsale numero 139 si tratta di Samuele Zambelli anche lui dell'Aiseo Rime Carnovali vedete che vanno a riaccodarsi ai fuggitivi con loro rientra anche Matteo Baseggio della Zalfe Romobile Desire Fior dunque durante la seconda tornata sulle rampe del Montello c'è un deciso rimescolamento delle carte vedete che anche il resto del gruppo capitanato da Pasquale Abbenante il ragazzo di Scafati vincitore 24 ore prima in terra Pisana a San Mignato rientra in testa alla corsa e insieme a lui rientra anche buona parte del gruppo intanto però si rimescola nuovamente le carte perché ad andarsene sono 8 corridori 8 atleti molto molto interessanti che riescono a guadagnare un vantaggio minimo 15 secondi allo scollinamento sul resto del gruppo e dunque si tratta di Francesco Messieri e Matteo Baseggio della Zalfero Mobile Desiree Fior di Sebastiano Mantovani della Viris Vigevano di Nicola Sarinaldi Samuele Zambelli e Filippo Bertone della Iseo Rime e Carnovali e attenzione anche a Tommaso Rigatti della Genera Storia Filippo Mori della Work Service Videa questi 8 atleti come detto riescono a scollinare sulla secondo passaggio a Grepevola Montagna con un vantaggio minimo di 15 secondi sul gruppo che però in pianura lascia fare e si presenta allargato su tutta la sede stradale tanto che i fuggitivi riescono ad affrontare per la terza volta il Montello con già un vantaggio di ben 45 secondi sul resto del gruppo un'azione quella degli 8 battistrada che vedete vanno di comune accordo interessantissima e molto probabilmente anche decisiva siamo dunque nel corso del terzo passaggio sulle rampe del Montello il gruppo alle spalle si dà battaglia per tentare di ricucire lo strappo sugli 8 battistrada ma questi 8 attaccanti proseguono grazie anche al forte impulso delle maglie dell'Aiseo Rime Carnovali ed è Samuele Zambelli uno degli atleti più interessanti presenti nel drappello di testa lui che ha già vinto una tappa al giro di Albania e che recentemente si è imposto sul traguardo di Darfo Buario Terme è proprio lui a dettare il ritmo in testa alla corsa sulla sua ruota il dorsale numero 136 il compagno di squadra si tratta di Nicola Sarinaldi per lui scalatore tanti buoni piazzamenti in questa prima parte di stagione anche se manca ancora l'acuto vincente per lui ma attenzione perché dietro il gruppo non ci sta e sono nuovamente le maglie della General Store ad attaccare a lanciarsi all'inseguimento abbiamo visto allungare in testa il gruppo Davide Casarotto vincitore lui della prima tappa della Giro del Veneto e aveva vestito anche per due giorni la maglia di leader dopo essersi imposto sul traguardo di Montegrotto Terme ebbene Davide Casarotto riesce a recuperare quei 45 secondi che separano il gruppo dal trappello degli otto di testa e riesce a riportarsi proprio sul gruppo dei battistrada dunque nove atleti al comando quando è stata completata la quarta tornata sulle rampe del Montello rimane da affrontare ancora una volta la presa 35 rimane da compiere ancora più di 35 chilometri per raggiungere il traguardo ma intanto Casarotto si riporta sulla testa e il gruppo rimane a 50 secondi dunque nove atleti al comando quando ci apprestiamo ad affrontare per l'ultima volta l'ascesa della Montello si tratta di Francesco Messieri Matteo Baseggio della Zalfo il Sebastiano Mantovani della Viris Vigevano di Nicola Sarinaldi Filippo Bertone Samuele Zambelli dell'Aiseo Rime Carnovali di Filippo Mori della Work Service Videa di Tommaso Rigatti e ovviamente Davide Casarotto della General Store un gruppo decisamente ben assortito che comprende tutte le migliori formazioni al via e che procede di comune accordo dietro il gruppo perde ancora il terreno e viene segnalato addirittura a un minuto e 30 secondi da questi nove attaccanti i nove attaccanti che hanno preso dunque decisamente le redini in mano del Gran Premio Ciclisti di Arcade che si corre come abbiamo sentito nelle interviste in un'annata speciale quella che ha regalato i 40 anni di attività del gruppo ciclistico Arcade e quando siamo tornati con le immagini sulle rampe del Montello vediamo che c'è un nuovo allungo in testa alla corsa questa volta il dorsale numero 49 si tratta di Tommaso Rigatti che martedì scorso si era imposto sul traguardo fiorentino di Vinci e che ora prova ad andarsene tutto solo ma attenzione perché su di lui si riporta un brillantissimo Francesco Messieri l'atleta della Zalfero Mobile Desiree Fior elitta il primo anno alla ricerca del primo successo stagionale si compone così una coppia in testa alla corsa con Rigatti giovane interessante passato quest'anno alla Genera Store e Francesco Messieri atleta passista scalatore di grande esperienza si transita l'ultimo Gran Premio della montagna di giornata transitare in testa è proprio Messieri sulla sua ruota Tommaso Rigatti che gli dà puntualmente il cambio e attenzione perché i più immediati inseguitori sono segnalati a 20 secondi gruppo invece in rimonta ma comunque distanziato di un minuto dalla testa della corsa si inizia a scendere con i due battistrada però lungo la discesa rientrano nuovamente gli ex compagni di avventura sui due fuggitivi dunque si torna ad avere un gruppo di nove attaccanti con il plotone distanziato di un minuto e dieci secondi a questo punto le salite sono finite ormai è tutta pianura per arrivare ad Arcade rimane solo lo strappettino di Bavaria da affrontare ma lo si fa di slancio soprattutto quando nel mirino c'è ormai la possibilità di andare a segno per questi nove attaccanti questi corridori che avevano preso il largo quando mancavano ancora più di 50 km all'arrivo e che ora vedono lì alla portata di mano la possibilità di portare a casa un successo prestigioso come quello della classica di Arcade lo ricordiamo c'è la superiorità numerica della Iseo Rime Carnovali che è presente con tre atleti due corridori per Zalf e General Store mentre un solo corridore per la Work Service Videa e per la Viris Vigevano che dovranno giocarsi dunque al meglio le loro carte nove atleti ormai la vittoria è riservata a questi nove attaccanti il gruppo continua a perdere terreno e quando abbiamo superato anche lo strappo di Bavaria ci dirigiamo verso Arcade viene segnalato a due minuti iniziano le consultazioni sul trappello di testa avete visto anche Ilario Contessa parlare con Filippo Mori e si transita al suono della campana giochi ormai fatti dunque sono questi nove atleti ad andare a giocarsi il successo nel 35esimo Gran Premio ciclisti di Arcade il resto del gruppo è segnalato a più di due minuti di ritardo dunque ormai la lotta è ristretta a questi nove Battistra da nove atleti che come abbiamo ricordato sono tra i più in forma del momento ricordiamo la vittoria recentissima di Rigatti ma anche quella di Zambelli ricordiamo anche la maglia di leader la vittoria del successo di tappa di Casarotto al Giro del Veneto dunque atleti brillanti e pronti a dare il meglio fino a questo momento sono sempre andati di comune accordo ma ora quando siamo ormai a 7 km dal traguardo vedete che si spezza l'accordo e il primo a lungo è quello di Davide Casarotto il vicentino della General Store vede che l'accordo viene meno e dunque prova la soluzione di forza allunga sul trappello di testa ma sulla sua ruota sono pronti a riportarsi tutti gli altri il primo è Matteo Baseggio l'oscatto di Casarotto crea qualche scompiglio in testa alla corsa vedete con il dorsale numero 136 sta tentando di rientrare in testa proprio Nicolas Rinaldi che raggiunge i battistrada in questo momento Rinaldi tira dritto e sulla sua ruota è bravissimo ad accodarsi Sebastiano Mantovani dunque anche il ragazzo veronese riesce ad accodarsi allo scatto di Rinaldi mentre Messieri viene stoppato giustamente da Zambelli e poi tutti gli altri dunque due atleti al comando quando ormai siamo al 5 km dall'arrivo si tratta di Sebastiano Mantovani e attenzione anche a Nicolas Rinaldi due ragazzi alla ricerca del primo successo stagionale per loro tanti buoni piazzamenti Mantovani si era messo in luce in primavera sul traguardo di Mercatale Valdarno e su di loro rientra velocissimo deciso a non perdere l'occasione il bolognese Francesco Messieri che è riuscito a fare la differenza lasciare dietro tutti gli altri e a 3 km dall'arrivo raggiunge la coppia di testa dunque quando mancano ormai meno di 3000 metri al traguardo rimangono in 3 al comando per loro 10 secondi sui più immediati inseguitori ma è un divario che non verrà più colmato perché davanti si pedala tutta e le trenate migliori le dà proprio Francesco Messieri sulla sua ruota Sebastiano Mantovani terza posizione invece per Nicolas Rinaldi vedete proprio Messieri ad incitare i compagni d'avventura a invitarli a dare il massimo perché ormai l'arrivo è lì a portata di mano 2 km al traguardo per i 3 attaccanti che vanno a giocarsi questo gran premio ciclisti di Arcade tutto succede in questo finale e dunque siamo con le telecamere fisse sul traguardo ed è proprio Francesco Messieri che all'ultimo chilometro con un colpo di mano se ne va tutto solo e va a cogliere il primo successo stagionale suo è il 35 4 posizione medaglia di legno che va a Matteo Baseggio della Zalf davanti a Davide Casarotto della Genera Store non resta che andare a sentire le voci dei protagonisti di giornata e poi la chiusura continua a Ruggeri Francesco Messieri un assolo straordinario ad Arcade si ci tenevo tanto a vincere oggi perché è un po' che la inseguo è andata via questa fuga da lontano e niente nel finale ci siamo poi spaccati e ho tentato un allungo 3 km dalla fine e sono riuscito ad arrivare da solo con pochi metri è stata una liberazione perché dopo un inizio di stagioni difficili col problema al ginocchio sono riuscito finalmente a vincere un successo che dedichi a chi? beh sicuramente a tutta la squadra perché come ho detto col problema al ginocchio mi ha aspettato quest'inverno mi ha dato tutto il tempo e penso oggi di averla ripagata e alla mia famiglia perché mi è sempre stato vicino a Matteo e poi a mio nonno mio nanno Luciano che purtroppo è morto e ho questo ricordo che vieni con lui a fare il campionato italiano qua ad Allievo proprio per queste strade e mi portò proprio lui a correre per cui ci tenevo tanto a onorarlo con una vittoria Egidio Fior 20esima vittoria stagionale e arriva con una solo di Francesco Messieri un ragazzo rilanciato da questa squadra mi ha fatto molto piacere che abbia vinto questo ragazzo Messieri che veramente meritava perché ha sempre dato tanto e ha aiutato tanto la squadra in tutte queste gare che abbiamo anche vinto comunque grande soddisfazione per tutto il gruppo della Zalfa un elogio a Faresin che li prepara meravigliosamente bene e al team manager Rui e a tutto lo staff un grazie a tutti perché veramente stiamo facendo delle cose inaspettate siamo con il presidente del gruppo sportivo di Arcade ciclisti di Arcade Moreno Zonta abbiamo festeggiato i 40 anni di attività della società ciclistica e i 35 anni del Gran Premio tantissima gente tantissime persone però ci sono delle novità delle idee delle idee sempre abbiamo festeggiato quest'anno il quarantesimo della nostra associazione e con piacere ho ricevuto anche lo spruzzo dello spumante l'ho accettato di cuore perché per me era un'annata particolare 35 anni anche di questa manifestazione che noi con impegno ci mettiamo ad organizzare speriamo di dare sempre il massimo di noi stessi i 40 anni li avete festeggiati con un libro intanto e poi diciamo l'idea che avete esatto abbiamo festeggiato con un libro perché era giusto ricordare non soltanto gli ultimi atti della nostra associazione ma anche i primi e quindi riunire tutti gli vecchi soci è stato un estremo piacere vedere raccontare le storie di una volta è meraviglioso quindi abbiamo fatto in questo libro che è emozionale perché ci sono tante fotografie quindi sulla base di quello uno si può riconoscere anche quando era più giovane mi parlavi di novità le novità come ho detto prima nel saluto a tutti quanti ve le voglio dare il prossimo anno però noi vorremmo fare un weekend di ciclismo arcadese quindi investire tutti quelli che sono i ciclisti di Arcade perché abbiamo dei giovanissimi meravigliosi un grosso gruppo che è l'Ognantino Arcade abbiamo delle ragazze allieve ed esordienti non juniores e chissà perché in futuro chi lo sa e poi il gruppo amatoriale che è il nocciolo duro organizzativo quindi non lo so faremo delle belle cose per il prossimo anno ritorniamo ancora in studio Chiara e ancora classifiche è arrivato il momento di vedere le classifiche oro gildo maschili e individuali oro gildo a Brugnera Bordenone in via Santissima Trinità 100 guida la classifica Andrea Alfio Bruno con punti 57 secondo Emanuele Oioli con punti 55 terzo Samuele Bonetto con punti 52 in cima alla classifica Andrea Piccolo con punti 168 seguito da Alessio Martinelli con 129 terzo e Mattia Vaceghe con punti 124 Guida la classifica Gregorio Ferri con punti 93 ex equo fra Marco Landi e Giovanni Aleotti ambedue con 69 punti Torniamo con il nostro ospite Stefano Busolin che ci parla di argomenti quanto mai coinvolgenti interessanti che vanno al di là del ciclismo e dello sport a carattere generale e riprendo da quanto diceva Andrea poco fa della mobilità elettrica per migliorare l'aria e la respirabilità della gente perché altrimenti qua va a finire che danneggiamo tutto quanto allora su questo argomento stavi parlando che anche l'UCI sta muovendosi in questa direzione? Assolutamente sì sono a livello di progetti ancora però si sta promuovendo questo tipo di ciclismo poi giustamente ci vorrà tempo ci vorranno tanti soldi ci vorranno soprattutto le aziende interessate perché attenzione soprattutto le aziende che producono questi mezzi mezzi elettrici sia motociclette sia automobili hanno bisogno di mostrare e di far vedere che sono affidabili quale miglior terreno di quello ciclistico sentiamo appunto Stefano Gusoriene presidente di Ascotrade che ci dà il suo riferimento per quanto riguarda la mobilità elettrica ecco all'interno dell'azienda che cosa si sta facendo che cosa si sta promuovendo c'è un progetto anche ovviamente a lunga scadenza sul quale già si sta lavorando proprio per raggiungere quelli che sono gli obiettivi ma i comuni per tutti sì noi siamo partiti con questo progetto non da molti mesi insomma a dicembre dell'anno scorso abbiamo sottoscritto un accordo con un'azienda italiana che si chiama B-Charge ed è un'azienda impegnata a installare stazioni di ricarica elettrica nel territorio è importante che ci siano queste sono diverse le aziende che si stanno adoperando in questa direzione siamo all'inizio di una fase di transizione che durerà anni sicuramente anche perché ci vuole anche un mercato che sia corrispondente siamo solo all'inizio però io credo che se fra cinque anni ci troviamo qua parleremo dei numeri molto interessanti e d'altra parte le case automobilistiche si stanno dirigendo sempre più adesso stanno non solo benzina ibrido con l'elettrico ma anche con il diesel se si manca i consumi cioè gli acquisti delle auto elettriche o ibride o ibride plug-in stanno crescendo molto di più in nord Europa in Italia siamo ancora allo zero virgola però siamo già a più di un milione di auto presenti e ad esempio gli ultimi dati che sono usciti proprio qualche settimana fa raccontano di una vendita anno su anno 2018-2019 che è superiore al 200% quindi c'è un interesse a un mercato che è piccolo ma sta crescendo velocemente anche nella certificazione UNESCO delle colline del Prosecco di Valdobbia del Conegliano di OCG bisogna assolutamente utilizzare questa denominazione c'era anche il progetto proprio della mobilità elettrica sostenibile dell'incentivo alla bicicletta sì peraltro ci sono già in itinere ed è un progetto avanzato le due comunità montane dell'area trevigiana interessate voi le avete già installate anche di colonnine o le state installando noi ne stiamo ne stiamo installando ma mi riferisco in questo caso a stazioni di carica elettrica per le biciclette quindi visto che siamo a teleciclismo è corretto anche dare questa informazione perché il turismo il turismo lento open air cosiddetto è molto interessato a questo tipo di opportunità e le colline del prosecco su questo sono un progetto pilota proprio di questo tipo è stato lanciato subito dopo il Giro d'Italia a San Daniele del Friuli con We Like Bike dove sono stati individuati i percorsi sono state poste le prime colonnine di ricarica per bicicletta voi dove le state installando? domani viene tirato via il gasolio che è quello che ne parlano tutti quindi fra fra si comincia adesso sempre meno allora le macchine gas e elettricità tutte le aziende che vanno a gasolio che sono infinite il gas ce la fa alimentarle tutte guardi tra il parco auto cosiddetto ecologico in Italia oggi il numero delle auto che sono alimentate a gas è ancora una percentuale interessante alta poi scendiamo con i numeri scendiamo su libridos come dicevo prima librido plug in fino ad arrivare al full electric e quindi i numeri poi ovviamente scendono io non non sono un esperto del mercato automobilistico e non le so dire fino a quando funzionerà il mercato del gas però le confermo quello che le dicevo prima il mercato si sta muovendo credo che un ruolo importante lo giocheranno i brand automobilistici perché a un certo punto se le case automobilistiche inizieranno a produrre esclusivamente auto elettriche o parzialmente o ibride o ibride plug in io consumatore nel momento in cui devo cambiare l'auto lì devo andare non ce n'è più per nessuno è scontato guardi che in Norvegia già oggi quindi nel 2019 il mercato elettrico supera e supera già al 60% rispetto al fatto 100 del mercato complessivo in Norvegia quindi ancora una volta è una questione da una parte culturale poi ci vogliono le infrastrutture riprenderemo un fa un istante però perché loro sono più maturi per questo tipo di innovazione è già il momento di un altro dei nostri contributi il tempo corre e quindi di nuovo l'ina alla regia un servizio per le aziende uno sguardo sul futuro dei giovani con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani e riprendiamo con i nostri argomenti parlavamo delle colline che sono diventate le colline trevigiane patrimonio UNESCO e quindi per salvaguardare questo patrimonio straordinario e non solo è anche tutto ciò che c'è intorno bisogna avere molta prestare molta attenzione alle problematiche di natura ecologica e quindi anche per quanto riguarda le bici che di per sé non inquinano ma inquina tutto ciò che segue le biciclette fra poco avremo anche le bici elettriche ma ritornando alle bici elettriche in maniera molto determinata insomma già tanti vanno con la bici elettrica e sotto questo profilo non c'è inquinamento però per quanto riguarda le macchine sì queste devono prendere una direzione completamente diversa ecco a sostegno di questa iniziativa io credo che si debbano muovere anche i nostri amministratori il governo le nazioni insieme insomma già lo dicevo prima se ci muoviamo a macchia di leopardo difficilmente si arriva a cogliere l'obiettivo e quindi il coinvolgimento deve essere generale in questo senso c'è un tavolo aperto si discute insieme di questa problematica beh la comunità europea su questo sicuramente fa il suo fa un coordinamento nei confronti degli stati poi rispetto agli stati singoli applicare le direttive che vengono emanate il governo italiano mi pare ha fatto una nell'ultima finanziaria ha approvato la possibilità di acquistare le auto elettriche con un risparmio che arriva fino a 5-6 mila euro parlo di auto ma sono detto anche i motocicli quindi anche le biciclette se lo vado probabilmente anche le biciclette è chiaro che ci dobbiamo muovere sono dei incentivi per le biciclette è chiaro che ci dobbiamo muovere tutti in questa direzione noi nel nostro piccolo stavo dicendo prima siamo partiti con questo progetto con questo accordo che abbiamo fatto a oggi abbiamo 197 stazioni di ricarica che verranno installate nelle zone ad esempio del patrimonio dell'UNESCO dove che magari sono zone che interessano anche a chi va in bicicletta allora sono 197 comuni che hanno sottoscritto l'accordo io francamente ricordarmi con precisione ma ci sono no no ma ci sono ci sono sicuramente noi abbiamo posto una condizione che siano posizionate su area pubblica cioè devono essere usufruibili da qualsiasi cittadino che arriva dall'estero che è un turista o da un residente 24 ore al giorno 365 giorni all'anno questa è l'unica condizione che abbiamo posto sono ovviamente la ricarica si paga sono gratuite per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni ovvero il comune mette a disposizione quel metro quadro necessario per l'installazione al di là poi delle pratiche burocratiche che riguardano l'Enel e altri soggetti poi però sono operative devono essere usufruibili da tutti questo è l'unico paletto che è stato posto alle pubbliche amministrazioni dicevo prima siamo partiti a dicembre in 4 mesi 60 comuni hanno aderito immediatamente altri stanno arrivando in queste settimane sono 197 nel Veneto 175 andranno giù in provincia di Treviso le prime 48 nel comune di Treviso progressivamente vengono già installate proprio in queste settimane siamo comunque insomma la conosciamo da ben 25 anni quando era assessore in provincia c'è sempre stata da parte sua anche la sensibilità nei confronti dell'ambiente ancora quando era appunto assessore a queste problematiche chiamiamole così quindi insomma aveva già avviato una serie di iniziative a favore della mobilità elettrica o mobilità sostenibile di cui 25 anni fa si cominciava a parlare insomma ci fermiamo su questa domanda riprendiamo da questo interrogativo di Tina dopo aver visto che cosa Chiara? il nostro prossimo servizio lì nella regia si ferma il cantiere del velodromo di Treviso ma fioccano le iniziative al lago Le Bandie di Spresiano Remo Mosole ancora una volta guarda avanti e dopo i mondiali di ciclocross il triathlon il nuoto la rassegna canina l'ossina autico le gare per ragazzini e tanto altro ospita sullo splendido specchio d'acqua un'altra rassegna a livello internazionale è cominciato in fatti con la cerimonia di apertura venerdì 2 di agosto e proseguirà fino a sabato 10 il mondiale riservato agli scaffi elettrici e alle barche telecomandate una novità assoluta per ciò che concerne l'Italia una manifestazione sotto legida della Federazione Italiana di Motonautica e con la presenza del Presidente della Federazione Mondiale il club di Motonautica di Chioggia è venuto qui perché ha sentito parlare dell'Agua Le Bandie ha visto con solo specchio d'acqua meraviglioso mi ha chiesto per fare questo mondiale la dodicesima mondiale e guarda caso che lo realizziamo noi qua a Treviso per l'Italia e c'è 18 nazioni ci sono 14 europee 4 asiatiche la Russia la Cina Hong Kong e Thailandia e tutti gli stranieri che sono venuti qua sono oltre ad essere entusiasti sono veramente contenti di questa ospitalità a noi non mi sembra neanche vero perché lo abbiamo creato apposta per eventi sportivi lo sport è dunque sempre protagonista alle bandie lo sarà ai massimi livelli quando il tripulato iter del velodromo sarà completato ma tal proposito sentiamo le parere di Remo Mosole ma che cosa succederà per l'impianto perché poi alla fine gli sportivi che poi seguiranno anche questa nostra intervista sono in apprezzione no degli sportivi abbiamo qualche mese di ritardo ma adesso quando che il commissario prenderà i soldi ci sono il velodromo è quasi finito manca la pista che la stanno costruendo a Monaco di Baviera e Suma che sono quelli che hanno fatto piste in tutto il mondo la pista starà costruita sarà portato a termine la gestione l'abbiamo quasi combinata con un'azienda forte nel territorio nostro perciò si dovrebbe arrivarci anche a quello sono cose che succedono perché se uno va in crisi tocca affermarsi adesso c'è questa moda che se uno va in crisi non paga nessuno fa il concordato in bianco non paga più nessuno va tre quarti in crisi qui che hanno messo i soldini propri per costruire e dopo si vedrà a me mi dispiace ho avuto veramente un'ammaraggia è stato distrutto dentro perché ero orgoglioso abbiamo fatto il collaudo a settembre e dopo un anno si troviamo appiedati e come i corridori è forno ma poi cambiano la bicicletta e qua è steso abbiamo forato cambiamo imprese ma il Verodromo è finito nemmeno la pioggia ha fermato l'inaugurazione di questo evento ospiti importanti hanno presenziato all'apertura e con la benedizione di Monsignor Andreatta sono iniziate le competizioni e adesso entriamo anzi fra poco entraremo proprio nel vivo della festa quando dopo i cerimoniali di apertura cominceranno a girare questi mini bollidi alle 11 alle 11 si comincia la prima gara dopo ogni giorno ci sono due gare chi vuole venire a vedere non è un spettacolo chi piace non piace ma non si paga il biglietto si sta su un ambiente sano si vede una cosa nuova per noi ospitare una cosa nuova la prima volta in Italia siamo anche orgogliosi soddisfatto anche il sindaco di Spresiano Marco della Pietra quando si porta il proprio territorio in giro per il mondo è sempre una cosa molto soddisfacente anche perché non tutti conoscono le realtà che abbiamo sia qui che nei comuni limitrofi è chiaro che avere mi pare 18 nazioni che vengono qui a gareggiare è di una soddisfazione enorme chiaramente ne trae vantaggio tutto l'indotto quindi dai negozi agli alberghi e via dicendo per cui sicuramente un appuntamento del genere porta solamente del bene al nostro territorio valorizza ancora più questo territorio lago le bandie e il polo ciclistico che abbiamo qui di rimpetto insomma proprio per quanto riguarda gli aspetti sportivi la valenza ripeto ancora di questo di questo avvenimento che fa spalancherare porte farà conoscere un po' quelle che sono le realtà e le peculiarità di questo territorio infatti dobbiamo essere bravi noi poi a far vedere anche tutto il resto che c'è ma non solo dal punto di vista sportivo anche proprio dal punto di vista per esempio enogastronomico adesso abbiamo le colline del Prosecco qui che sono diventate patrimonio UNESCO insomma credo che chiunque venga qui per una gara del genere possa spostarsi e fare 20 km per andare a vedere questa realtà abbiamo Venezia a 50 km io credo che l'ubicazione proprio a livello logistico del nostro territorio sia perfetta sei a un'ora dal mare un'ora dalle montagne più belle del mondo oserei dire insomma se non ne approfittano quando sono qua non so quando potrebbero farlo buona giornata cari amici sportivi clip iniziale dedicate alle colline biellesi ci troviamo a Bioglio per il trofeo Triverio e secondo Memorial Comendatore Elio Allasa l'organizzazione è curata dal Team Paldi manifestazione riservata alla categoria Lievi una delle gare più impegnative in calendario per questa categoria abbiamo visto le belle immagini dell'alto di questo spettacolare tracciato ma andiamo alla sintesi della gara quando siamo nel corso del quarto passaggio siamo perfettamente a metà gara al comando vi sono quattro corridori con il numero 54 in fondo al gruppetto di testa vi è Edoardo Alleva portacolori della Bustesa Ologna poi con la maglia rosso-blu dell'Esperia Piasco Lorenzo Rimaudo oggi in gara con il numero 22 e al comando i due portacolori della Vigor Matteo Lovera con il numero 1 e con il dorsale numero 5 Pietro Mattio 25 secondi di vantaggio per questi quattro atleti alle loro spalle vi sono 5 corridori mentre il gruppo quando siamo a metà gara non esiste praticamente più vi sono tanti piccoli gruppetti caldo e impegnativa salita stanno mettendo a dura prova questi giovani atleti inquadrati sono i contrattaccanti al comando a fare l'andatura via il portacolori della Bustesa Ologna Enrico Bernasconi poi con il numero 4 Domenico Cirlincione della società Vigor poi con il numero 17 Luca Rosa dell'Alba Bra Langeroero con il numero 60 abbiamo visto Francesco Fosi della Bustesa Ologna e in ultima posizione il compagno di squadra Gabriele Bessega si va a fare la volata per i 4 corridori di testa per guadagnare punti alla Gran Premio della Montagna passano per primi i 2 corridori della Vigor Pietro Mattio e Matteo Lovera in terza posizione Edoardo Leva con solo i 10 secondi di ritardo transitano Bernasconi Cirlincione e Luca Rosa Al termine della discesa nell'abitato di Piatto Bernasconi Rosa e Cirlincione si accodano al gruppetto di testa ora vi sono 7 corridori al comando della gara quando siamo al chilometro 48 e ne mancano ancora 10 poco più di 2 giri alla conclusione ora vi è un allungo in testa al gruppetto è il corridore della Vigor Lovera che dà fuoco alle polveri allungo molto deciso del corridore che è arrivato in seconda posizione nella passata edizione di questa gara stanno allungando tre corridori mentre Bernasconi non riesce a chiudere il buco al comando tre corridori Lovera Rimaudo e Alleva siamo vicini alla conclusione del settimo giro quando vi è un allungo che fa male in testa alla gara Rimaudo cambia decisamente il ritmo mentre Lovera ed Alleva restano sui pedali non riescono a rispondere al corridore dell'esperia Piasco che in questa fase è veramente scatenato due corridori all'inseguimento di Rimaudo sono sempre Lovera e Alleva solamente dieci sono i secondi di ritardo per questi due corridori siamo ormai entrati nella parte conclusiva di gara meno di due chilometri alla conclusione con Lorenzo Rimaudo ormai imprendibile un minuto di vantaggio sui primi inseguitori quando si va verso il triangolo rosso e l'ultimo chilometro di gara e siamo così con le telecamere poste all'arrivo si sta per concludere questo trofeo Triverio e secondo Memorial Accomendatore Lio Allase alla memoria per la categoria allievi ottimamente organizzato dal Timpaldi vince il piemontese di Alba Lorenzo Rimaudo che chiude i 58 chilometri con il tempo di un'ora 38 e 15 secondi all'ottima media oraria di 35,4 Rimaudo si è involato quando mancavano 13 chilometri alla conclusione praticamente due giri in solitaria ed ha meritato la vittoria vi è la volata per il secondo posto che va al corridore della Bustè Sologna Edoardo Alleva e precede Matteo Lovera il corridore della Vigor dopo il secondo posto della passata edizione collezione un altro bel piazzamento sempre intenso il programma organizzativo della ciclistica DRO che anche domenica scorsa ha messo in cantiere due gare una per esordienti a categorie unificate della quale stiamo vedendo le immagini e successivamente la corsa riservata alla categoria degli allievi per i più giovani si correva l'ottavo trofeo Miori Girardi ed erano 28 e 800 i chilometri complessivi da percorrere 4.650 metri attornata per sei volte poi il finale con l'ultimo chilometro praticamente in salita fino in località oltre all'interno del centro sportivo rintuzzati del gruppo tutti gli attacchi non l'ultimo però che vedeva protagonista in solitaria Davide Signoretto della società ciclistica minciocchiese che andava così a cogliere un bel successo sul traguardo trentino davanti alle compagnie di squadra Monisterre che regolava il gruppo e Camberai Nicola Bataing del gruppo sportivo Fonzaso si imponeva poi tra gli esordienti del primo anno regolando Marchese e Bernardi la manse successiva a quella che vedeva impegnati gli allievi si correva sul medesimo circuito ed identico finale con gli ultimi mille metri in salita la prova la prova sulla distanza di 56 chilometri e 800 metri quindi 12 giri dell'anello era impernata sulle quattordicesimo trofeo supermarket della calzatura il gruppo si dava a battaglia senza esclusione di colpi cercando la sortita per condurre a buon fine la corsa ma le buone intenzioni venivano sempre vanificate cosicché era inevitabile una conclusione a ranghi compatti dove la ruota di Diego Ressi della società ciclistica Mincio Chiese superava nettamente Bruttomesso e Rossi in play dunque per la formazione mantovana del presidente Guido Morelli sapevo di essere veloce e infatti è arrivata la vittoria e ben ritornati in studio ancora classifiche questa volta le classifiche Orogildo a squadre Orogildo a Brugnera Bordenone in via Santissima Trinità 100 al primo posto aspiratori hotelli con punti 95 secondo posto per Tim e Giorgi con punti 91 e al terzo la Termopiave Valcavasia con punti 86 il team Giorgi con punti 417 seguito dal team LVF con punti 356 al terzo posto Borgomolino Rinascita Ormelle con punti 311 Borgomolino in cima alla classifica Zalfermobile con punti 464 secondo posto per il team Colpacca con punti 338 al terzo posto Casillo Maserati punti 257 e riprendiamo riprendiamo con i nostri argomenti parlavamo delle colline che sono diventate le colline trevigiane patrimonio UNESCO e quindi per salvaguardare questo patrimonio straordinario e non solo è anche tutto ciò che c'è intorno bisogna avere molta prestare molta attenzione alle problematiche di natura ecologica e quindi anche per quanto riguarda le bici che di per sé non inquinano ma inquina tutto ciò che segue le biciclette no fra poco avremo anche le bici elettriche ma ritornando alle bici elettriche in maniera molto determinata insomma già tanti vanno con la bici elettriche e sotto questo profilo non c'è inquinamento però per quanto riguarda le macchine sì queste devono devono prendere una direzione completamente diversa ecco a sostegno di questa iniziativa io credo che si debbano muovere anche i nostri amministratori il governo le nazioni insieme insomma già lo dicevo prima se ci muoviamo a macchia di leopardo difficilmente si arriva a cogliere l'obiettivo e quindi il coinvolgimento deve essere generale in questo senso c'è un tavolo aperto si discute insieme di questa problematica la comunità europea su questo sicuramente fa il suo fa un coordinamento nei confronti degli stati poi rispetto agli stati singoli applicare le direttive che vengono emanate il governo italiano mi pare ha fatto una nell'ultima finanziaria ha approvato la possibilità di acquistare le auto elettriche con un risparmio che arriva fino a 5-6 mila euro parlo di auto ma sono detto anche i motocicli quindi anche le biciclette se lo vado probabilmente anche le biciclette è chiaro che ci dobbiamo muovere sono dei incentivi per le biciclette è chiaro che ci dobbiamo muovere tutti in questa direzione noi nel nostro piccolo stavo dicendo prima siamo partiti con questo progetto con questo accordo che abbiamo fatto a oggi abbiamo 197 stazioni di ricarica che verranno installate nelle zone ad esempio del patrimonio dell'unesco dove che magari sono zone che interessano anche a chi va in bicicletta allora sono 197 comuni che hanno sottoscritto l'accordo io francamente ricordarmi con precisione ma ci sono no no ma ci sono ci sono sicuramente noi abbiamo posto una condizione che siano posizionate su area pubblica cioè devono essere usufruibili da qualsiasi cittadino che arriva dall'estero che è un turista o da un residente 24 ore al giorno 365 giorni all'anno questa è l'unica condizione che abbiamo posto sono ovviamente la ricarica si paga sono gratuite per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni ovvero il comune mette a disposizione quel metro quadro necessario per l'installazione al di là poi delle pratiche burocratiche che riguardano l'Enel e altri soggetti e poi però sono operative devono essere usufruibili da tutti questo è l'unico diciamo paletto che è stato posto alle pubbliche amministrazioni dicevo prima siamo partiti a dicembre in 4 mesi 60 comuni hanno aderito immediatamente altri stanno arrivando in queste settimane sono 197 nel Veneto 175 andranno giù in provincia di Treviso le prime 48 nel comune di Treviso progressivamente vengono già installate proprio in queste settimane siamo comunque insomma la conosciamo da ben 25 anni quando era assessore in provincia c'è sempre stata da parte sua anche la sensibilità nei confronti dell'ambiente ancora quando era appunto assessore a queste problematiche chiamiamole così quindi insomma aveva già avviato una serie di iniziative a favore della mobilità elettrica o mobilità sostenibile di cui 25 anni fa si cominciava a parlare insomma ci fermiamo su questa domanda riprendiamo da questo interrogativo di Tina dopo aver visto che cosa Chiara? il nostro prossimo servizio lì nella regia Ricanati Pieve Torina Mare e Monti edizione numero 14 salve da Umberto Martinelli e da Stefano Fazzini che vi propone le immagini della manifestazione riservata quest'anno agli Juniores la cronaca ha regalato diversi momenti interessanti seguiamo questo quintetto che passa sotto il traguardo di Pieve Torina prima della parte più tosta della competizione siamo in direttura d'arrivo le notizie rimbaltano sul traguardo grazie a Radio Corsa con Simone Gazzoli la voce e Gianni Pizzingrilli ad offrire il contributo tecnico e puntualmente ecco la sagoma di Gianmarco Garofoli che ancora onora il ruolo di profeta in patria non si è lasciato intimidire sa reggere le pressioni e va a onorare la manifestazione la quattordicesima edizione della Ricanati Pieve Torina Mare e Monti va al campione italiano in carica e assistiamo alla volata per l'argento viene conquistato da Daniello per la doppietta del team LVF bronzo a Dauria quarta piazza bassica dell'Unione ciclistica Foligno sì questa gara organizzata da Ricanati Marina di Cantarini che era la mia ex squadra ci tenevo particolarmente e quest'oggi sono riuscito a dare il meglio e a vincere in maglia tricolore questa è la mia prima vittoria dopo il campione italiano il tuo nuovo pool è l'espressione del Ricanati Marinelli Cantarini quindi di nuovo possiamo dire profeta in patria sì sì diciamo che è sempre bello riuscire a strappare anche un po' di gioia alla mia ex squadra e anche i miei compagni sono andati molto forti non so quasi tutti nei dieci perciò sono molto soddisfatto risuonano le note dell'inno nazionale ucraino a Carmignano di Brenta per celebrare il successo di Vozislav Peric nella quinta edizione del trofeo della Brenta vale a dire l'ormai classico appuntamento riservato agli juniores che ha fatto calare il sipario sull'edizione 2019 del Carmignano Bike Festival un'intera settimana di gare e di eventi dedicate al mondo della bicicletta Vozislav Peric che ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Alessio Portello della Borgomolino Rinascita Ormelle e il toscano Enrico Baglioni della Stabbia una gara quella di Carmignano di Brenta che ha visto al via ben 119 atleti e che era partita sotto i raggi del sole per poi concludersi sotto un autentico acquazzone dicevamo 119 partenti tra loro anche gli atleti della campana in ballaggi Rotogal che qui sono di casa grazie all'amicizia con Angelo Gallio che erano impegnati però anche al Giro dell'Austria e da segnalare a proposito di questo per la formazione diretta da Alessandro Coden il terzo posto di Edoardo Sandri nella ultima tappa del Giro dell'Austria e poi gli è valso il terzo posto anche in classifica finale vinta invece dal tedesco Marco Brenner ma tornando con le immagini al trofeo del Brenta di Carmignano di Brenta vedete che sin dal primo tratto di sterrato a tentare di fare la differenza è proprio l'Ucraino della Borgomolino Rinascita Ormelle Vozislav Peric che insieme ad Alessio Portello riesce a strappare dall'attenzione del gruppo un quartetto insieme allo sloveno Bostian Murn dell'Adria Mobil e a Giacomo Zenoni della Sali Stefan Omap un quartetto riesce a guadagnare una trentina di secondi sul resto del gruppo un gruppo che chilometro dopo chilometro continua a selezionarsi sino a ridursi ad una trentina di unità una gara davvero impegnativa si è rivelato questo quinto trofeo della Brenta che al suono della campana applaude la solo di Bostian Murn lo sloveno dell'Adria Mobil già protagonista al giro delle prese riesce a transitare il suono della campana con 20 secondi sui più immediati inseguitori e neanche a dirlo a guidare il rientro del gruppo sono proprio le maglie della Borgomolino Rinascita Armelle decise a lanciare nuovamente lo sprint vincente questa volta di Vosislav Peric l'Ucraino che parteciperà alla gara in linea dei campionati europei non si fa scappare l'occasione e con una lunghissima progressione proprio sulle strade del centro di Carmignano di Brenta va a cogliere un successo davvero straordinario abbiamo detto sul podio con lui Alessio Portello ed Enrico Baglioni ma andiamo a sentire le interviste raccolte subito dopo il treguardo Vosislavo una vittoria voluta cercata e conquistata prima provato da solo e poi allo sprint beh penso che ci sia poco da dire oggi volevo vincere sono riuscito a vincere penso di aver fatto 90 km di fuga alla fine ne avevo ancora sono riuscito primo dalla curva e sono riuscito a vincere ancora quindi sono contentissimo la vittoria la dedico a tutta la squadra gli sponsor alla mia famiglia e soprattutto a Carlo Merenti e a Cristian Pavanello una gara ad altri tempi beh direi di sì io sono adatto a queste temperature e alla pioggia oggi mi sono divertito perché c'era parecchio sterrato e sono già in forma per gli europei avevo la gamba che andava da sola e penso di averlo fatto vedere insomma e adesso si vola ad Alkmar si vola ad Alkmar e con un grande sogno non dico nulla però speriamo dai oggi sono stati esemplari avevamo provato a fare la corsa dura subito dall'inizio e non ci è riuscito c'erano grosse squadre tipo lo Stabia che aveva dalla lunga non si è riuscito a fare quello che lo volevamo poi lo sloveno ci ha messo in difficoltà e abbiamo dovuto chiudere ci è andata bene in volata non era un arrivo facile ci vuole anche un po' di fortuna però i ragazzi sono andati forti Peric prima l'attacco e poi in volata quanto forte è questo ragazzo? Peric non sappiamo dove può arrivare io so solo che 99 su 100 dovrà fare l'europeo e penso che possa giocarsela anche lì è andato in scena martedì 30 luglio l'ormai tradizionale appuntamento in semi notturna di Levane in provincia di Arezzo una gara dalla formula molto speciale perché vede la partenza alle ore 19 e la conclusione a notte inoltrata un tracciato di ben 135 km da affrontare per il centinaio di atleti che si è presentato ai nastri di partenza della gara messa in cantiere dalla Fracor International una prova appunto che come dicevamo si disputa sulla distanza ai 135 km scanditi per la prima metà di gara da tre ampie tornate che presentano anche alcune importanti salite poi da ben 40 giri sul carosello cittadino di Levane che ogni anno richiama il grande pubblico per assistere le fasi decisive di questa prova in paglio c'è l'undicesima edizione del Gran Premio Polverini Arredamenti e con le immagini ci siamo già spostati al chilometro 50 quando a prendere il largo è un quintetto molto interessante ci sono infatti a comporlo due uomini della Viris Vigevano si tratta di Masotto e Mantovani Davide Italiani della Team Cinelli Manuel Pesci della Malmantide e Riccardo Verza della Zalfero Mobile Desiree Fior questi cinque corridori guadagnano un vantaggio massimo sul gruppo che arriva a sfiorare i due minuti ma c'è ancora tanta strada da percorrere prima di arrivare al traguardo finale è infatti un po' una tradizione di questa prova retina il fatto che ci sia la fuga della prima ora ma che poi tutto si decida in realtà sulla circuito finale un anello di poco meno di due chilometri da ripetere come abbiamo detto 40 volte scandito da diverse curve curve che dunque favoriscono gli attacchi vanno di comune accordo comunque i cinque attaccanti che riescono a registrare per oltre metà gara all'inseguimento del gruppo e come vedete a scandire il passo soprattutto in salita sono le maglie della Viris Vigevano due ragazzi molto interessanti Mantovani e Masotto entrambi veronesi che gareggiano sotto la guida dell'ex professionista Simone Bertoletti a comporre questo quintetto come abbiamo detto anche Manuel Pesci e Davide Italiani oltre al padovano Riccardo Verza della Zalf Euromobile Desiree Fiore quando i chilometri passano il gruppo nonostante come abbiamo detto l'accordo in testa al gruppo riesce a rirosicchiare diversi secondi agli attaccanti e questo fa sì che una volta entrati sul circuito cittadino quando ormai è calato il sole ed è il buio a farla da padrone inizi la vera e propria bagarre per questo undicesimo Gran Premio Polverini Arredamenti una bagarre furibonda quella che vede mischiarsi più volte le carte in testa alla corsa con diversi atleti che rientrano sui 5 attaccanti della prima ora e il plotone che continua ad avvicinarsi un pubblico quello che sta attendendo il passaggio di corridori a Levane che minuto dopo minuto cresce sempre di più e si fa sentire con il proprio tifo per i ragazzi ormai chiamati a darsi battaglia su questo anello tortuoso ma anche molto molto interessante e ben illuminato vedete in azione in questo momento anche Pasquale Benante che insieme a Francesco Messieri è stato uno dei più attivi in questa fase ricordiamo che siamo poco più di metà gara mancano ancora 38 tornate al termine dunque ce n'è ancora di spazio per recuperare per il gruppo che non ci metterà molto a riportarsi sulle tracce di tutti gli attaccanti dunque una situazione che torna a riaprirsi con il gruppo che torna compatto quando al traguardo mancano una quarantina di chilometri una prova quella di Levane come abbiamo detto molto particolare una scelta quella adottata dagli organizzatori capitanati dal direttore di corsa Fabrizio Carnasciali che va a valorizzare soprattutto lo spettacolo che questi ragazzi dilettanti sanno offrire ed è festa grande a Levano e quando si parla di due ruote il pubblico risponde sempre numeroso Levane è una città illuminata anche dai festeggiamenti per la tradizionale festa cittadina e vedete che quando siamo a 15 tornate dal termine c'è un nuovo tentativo di allungo questa volta ad involarsi tutto solo alla nuova maglia della Zalfa Aeromobile Desiree Fior si tratta di Alex Tolio il ragazzo di Crespano del Grappa al primo anno nella categoria era cresciuto tra le fila della Pressix Mito Sport diretta dall'instancabile Carlo Endrizzi e tra gli uniori si era riuscito a cogliere tre successi importanti quest'anno al primo anno nella categoria ancora alla ricerca del risultato di prestigio e va a caccia di questo successo proprio sul circuito di Levane un'azione la sua molto interessante perché il gruppo gli lascia gli concede 30 secondi dunque 30 secondi per un atleta solo al comando un Alex Tolio che conosciamo soprattutto per le sue doti di scalatore ma che evidentemente sa difendersi molto bene anche sul passo all'inseguimento di Alex Tolio si lancia un altro atleta molto interessante si tratta del Pistoiese Francesco Molini della Mastro Marco l'atleta Pistoiese appunto tenta tutto solo di andare a riprendere il Battistrada Alex Tolio ma per lui da recuperare ci sono come abbiamo detto più di 30 secondi il gruppo viene segnalato in questa fase a 45 secondi e soprattutto spezzettato in più tronconi dunque con il cartello dei 10 giri al termine che è già stato esposto la situazione vede al comando sempre Alex Tolio a 25 secondi si porta Francesco Molini della Mastro Marco a 50 secondi il resto del gruppo una fase decisiva questa dell'undicesimo Gran Premio Polverini Arredamenti perché si va ad inscenare un vero e proprio braccio di ferro tra Alex Tolio e il resto della corsa con il cronometro che è lì a farla da padrone dunque continua ad oscillare il vantaggio di Tolio che invece prosegue continua a spingere sui pedali in apnea non si volta mai indietro prosegue sempre deciso Alex Tolio ben protetto alle sue spalle anche da tutte le altre maglie della Zalfero Mobile Desiree Fior che riescono ad imbrigliare la reazione degli inseguitori siamo ormai in vista del suono della campana per Alex Tolio lanciato questa volta si verso il primo straordinario successo tra gli under 23 un'azione coraggiosissima che merita l'applauso che gli è stato tributato dai tanti tifosi di Levane perché per un atleta al primo anno non è facile uscire con un'azione con questo carattere con questa convinzione vedete ormai bordo strada assiepato di pubblico a Levane davvero tanta gente per quella che è una vera e propria festa delle due ruote Alex Tolio transita al suono della campana e conserva ancora 30 secondi sui più immediati inseguitori ma attenzione perché al suo inseguimento non c'è più Federico Molini ma si è portato il compagno di squadra Pasquale Abbenante che era riuscito a rientrare su Molini e poi l'ha staccato e si è andato via tutto solo dunque l'atleta di Scafatti pedala verso una doppietta straordinaria per la compagine dei patron Gaspare Lucchetta e De Gidio Fior terza posizione virtuale al momento al suono della campana per Federico Molini della Mastromarco più indietro il gruppo che ormai è segnalato ad un minuto e 10 secondi a guidare il gruppo sono ancora una volta le maglie della Zalfero Mobile Desiree Fior che è calata in Val D'Arno per farla da padrone e che sta tentando di portare a casa un'altra sfida interessantissima quella che va a premiare questa volta Alex Tolio dunque per il portacolori della Zalfero Mobile Desiree Fior che completa i 135 km in 3 ore e 21 minuti e 59 secondi alla media dei 41 e 558 arriva il primo successo tra gli under 23 seconda piazza per Pasquale Abbenanti ragazzo di Scafati anche lui della Zalfero Mobile Desiree Fior che si presenta sul traguardo con 33 secondi di ritardo da Tolio la terza piazza va ad un generosissimo Federico Molini il pistoiese della Mastromarco che giunge ad un minuto e 10 secondi e vedete già in fondo l'arrivo anche del gruppo segnalato con un minuto e 22 secondi di ritardo a regolare la volata della Plotone è il veronese Enrico Zanoncello anche lui della Zalf come Marco Landi che chiude in quinta piazza e Matteo Baseggio che arriva sesto non resta che andare ad ascoltare le parole di Alex Tolio subito dopo il traguardo una bella vittoria 30 km di fuga si ringrazio i miei compagni che mi hanno sostenuto i giri erano tanti ma io ce l'ho messa tutta sentivo che la gamba mi sosteneva spingevo spingevo perché sentivo dentro di me che potevo farcela sentivo l'aria del gruppo alle spalle ma non mi sono mai girato per paura di vederli e ho tirato dritto e sono riuscito ad arrivare fino alla linea d'arrivo e cogliere questa bellissima prima vittoria che mi dà tantissimo morale e un buon punteggio anche per la squadra ovviamente il 24esimo Gran Premio San Luigi si è corso sulle strade veronesi di Caselle di Sommacampagna 124 km e 400 m la distanza complessiva distribuiti su 17 tornate di 7.320 m una corsa che come appuntò un 15 giorni prima ha visto protagoniste la Zalfero Mobile di Sirefior e la General Store con la formazione di Egido Fiore che lanciava Gregorio Ferri riacciuffato a 800 metri dalla conclusione dove la General Store preparava il lancio per Francesco Di Felice ed il pescarese non sbagliava l'appuntamento con il quarto successo stagionale Di Felice precedeva nell'ordine Alessio Brugna poi Enrico Zanoncello Michael Minali Riccardo Moro Leonardo Marchioli ed ancora Colnaghi Stocco e Zambelli che terminava al decimo posto il podio con i protagonisti del Gran Premio San Luigi Grazie a tutti Grazie a tutti Ed eccoci nuovamente in studio e aggiorniamo anche le classifiche femminili. Vediamo come sono cambiate. In cima alla classifica Francesca Barale con punti 100, seguita da Eleonora Ciavocco con punti 69, al terzo posto Carlotta Cipressi con punti 58. Eleonora Camilla Gasparini punti 64, Sofia Coluinelli punti 60, Gaia Masetti 38 punti. Il primo posto per Marta Bastinelli punti 221, seguita da Soraya Paladine punti 109, al terzo posto Elisa Longo Borghini con 77 punti. Ritorniamo sulle nostre problematiche legate alla generalità della gente, al mondo dello sport, sull'interrogativo di Tina. Appunto in questo caso la provincia di Treviso è sempre stata sensibile verso la mobilità sostenibile, chiamiamola così. Diciamo che allora la provincia di Treviso fu protagonista di un grande progetto che noi chiamavamo allora, perché purtroppo c'erano dei numeri drammatici per quanto riguardava gli incidenti stradali, quindi siamo intervenuti con un grande progetto sulla sicurezza stradale, che si è visto protagonisti nella realizzazione di un numero importante di rotatorie, proprio per mettere in sicurezza gli incroci. Un progetto che è durato svariati anni e che ha dato dei risultati molto importanti, anche come diciamo abbattimento del numero di vite umane a causa di incidenti stradali, però abbiamo fatto anche un intervento dentro le scuole. Sono stati più di 200.000 gli studenti che sono stati coinvolti nel corso degli anni in questo progetto e poi avevamo avuto quell'ispirazione, quell'idea di mettere in mezzo alle piazze dei comuni delle auto incidentate a monito di che cosa accade quando si eccede nella velocità, quando ci sono comportamenti sbagliati nella guida, quando si fa uso di alcol, di droghe e via dicendo. E quindi da questo punto di vista le pubbliche amministrazioni possono dare un contributo importante, certamente. Queste attività delle pubbliche amministrazioni, proprio per migliorare la viabilità attraverso le circolazioni rotatorie, sono state pensate anche per favorire il movimento ciclistico? Parlavamo molto spesso in quegli anni anche delle piste ciclabili, poi abbiamo incontrato queste nuove tecnologie, questi nuovi accorgimenti, ecco per meglio dire, per rallentare l'incedere delle auto. Si legano bene anche al movimento ciclistico queste iniziative? Guardi, io penso... Introdotte sulle strade, insomma, no? Innanzitutto penso che ci sia una regola base per tutti, cioè che andiamo in bicicletta, che andiamo a piedi, che andiamo in macchina, che andiamo in camion, bisogna rispettare le regole della strada. Leggevo un pezzo l'altro giorno, c'erano dei numeri impressionanti perché nel Veneto ci sono 830, mi parlo, 828 auto ogni 1000 abitanti, quindi c'è un numero enorme di persone che si muove, spesso uno per auto, come siamo purtroppo abituati a fare, e questo ci obbliga a fare delle riflessioni anche rispetto a un'educazione costante stradale. Ancora una volta le scuole sono fondamentali perché noi dobbiamo far crescere i futuri cittadini con la cultura del rispetto delle regole. L'opera della disesibilizzazione deve partire da là, insomma, no? Sì, guardi, durante il Giro d'Italia una società che produce pneumatici, non cito il nome, ha fatto un'indagine proprio sul Veneto, nazionale ma anche calata sul Veneto, rispetto alla sensibilità che un guidatore di auto ha, cioè quando è alla guida sostanzialmente, rispetto al senso della sicurezza. Quasi l'80% degli intervistati ha detto, ma io sono sicuro, io rispetto le regole, ma quasi l'80% ha detto io non mi fido degli altri. Quindi c'è una percezione che è impressionante, cioè voglio dire, siamo sicuri di noi stessi, come fossimo noi che rispettiamo, e sono solo gli altri a sbagliare. Comunque la regione... Questo è un problema, cioè bisogna educare anche le persone piuttosto che giudicare, piuttosto che scaricare sempre sul prossimo le responsabilità, bisogna prendersene. Comunque nelle settimane scorse la regione Veneto ha presentato il nuovo piano della mobilità, investimenti da milioni e milioni di euro, e sono state firmate delle convenzioni, o come si possono chiamare, relative alle piste ciclabili, per cui la regione Veneto sta veramente investendo nel senso questo. Sono 15 milioni per 73 interventi. E poi in questo momento si sta passando più delle piste ciclabili ai percorsi ciclabili, cioè andare a individuare non tanto la corsia all'interno del paese che serve per far passare le biciclette, ma proprio di percorsi alternativi che portino i ciclisti a girare a largo da quelle che sono le arterie più trafficate. Invece per il singolo guidatore per l'auto potremmo mutuare quello che già fanno negli Stati Uniti, ad esempio a Los Angeles c'è la corsia, proprio le carpool, dove sono delle corsie percorribili solo da auto, che hanno in macchina appunto almeno due persone. Los Angeles sono delle strade che sono impressionanti. Noi abbiamo città medievali che in America non esistono. Ecco però fra poco, nella nostra ultima parte di questa puntata, parleremo del ritorno al passato per quanto riguarda la mobilità. Quando, facendo riferimento al passato, la quasi totalità della gente andava con la bici. Adesso Chiara? Vediamo il prossimo servizio. Industrial Forniture Moro, negozio nel negozio, a Treviso in via dei da Prata 34. Questa sera siamo andati a ripescare le immagini di un passato relativamente recente. Era il 2011, quando si corse la prima ed unica edizione del Giro di Padania. La corsa, inserita nel calendario, a due settimane dei campionati del mondo, vide grandi corridori essere protagonisti nelle cinque tappe in programma. Si partì da Paesana, in provincia di Cuneo, per chiudere nel Vicentino, a Montecchio Maggiore. La prima storica tappa, la Paesana Leiguelia, vide la vittoria di un trevigiano doc, Shasha Modolo, con la maglia azzurra della Colnago CSF. Altri vincitori allo sprint di quella edizione furono Elia Viviani e Andrea Guardini. Il Giro di Padania, però, fu molto di più di una corsa ciclistica. Non a caso si corse tra le vibranti proteste che culminarono nel passaggio della carovana a Savona nella seconda tappa. La Loano Vigevano. Qui il gruppo fu costretto a fermarsi a causa delle inottemperanze di alcuni manifestanti che arrivarono a colpire con uno schiaffo il bresciano Sonny Colbrelli. La vittoria finale andò a Ivan Basso, che vediamo vincere con la maglia Liquigas sul traguardo di San Valentino di Brentonico. Dopo quel Giro di Padania, che si concluse con la premiazione finale in Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, nel 2012 si corse la Monviso Venezia, sempre organizzata dall'appassionato Michelino Davigo, che fu vinta da Vincenzo Nibali. Ma ormai l'eco mediatico di quella prima edizione si era già spento. Industrial Forniture Moro, negozio nel negozio, a Treviso in via dei da Prata 34. Buona Lea, la casatella trevigiana d'Opso Ligo. Buona, la più buona d'Italia. Ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale con Senza Freni. La riforma dello sport è chiamata al vaglio del Senato e sulla proposta del sottosegretario allo sport, il leghista Giancarlo Giorgetti, è guerra aperta. La maggioranza vuole l'ok dell'aula del Senato al disegno di legge delega al governo in materia di ordinamento sportivo. Già approvato alla Camera prima della pausa ferragostana, molto probabilmente ricorrendo al voto di fiducia quanto emerso dalla conferenza dei capigruppi di Palazzo Madama nei giorni scorsi. La delega allo sport arriverà in aula molto probabilmente senza relatore, ha spiegato Luca Ciriani, senatore di Fratelli d'Italia, al termine della riunione dei capigruppo. Gli emendamenti sono davvero tanti ma il governo vuole chiudere e arrivare in aula senza relatore, abbiamo chiesto il perché, ma nessuna risposta di carattere tecnico è arrivata, è una questione politica. Probabilmente Giorgetti vuole chiudere prima dell'estate. Intanto alcune federazioni sportive hanno scritto una lettera aperta al presidente del CONI Giovanni Malagò affinché il numero uno dello sport italiano non si metta di traverso rispetto alla riforma. Apprendiamo che il presidente del CONI Giovanni Malagò nell'audizione alla settima commissione del Senato ha dichiarato che la legge delega riguardante lo sport crea seri problemi con il CIO ed è in contrapposizione con i principi fondamentali della carta olimpica. Le federazioni firmatarie ritengono che tale atteggiamento crei uno stato di disagio e turbamento non condivisibile. Lo si legge in una nota firmata da Gianni Petrucci, Feder Basket, Paolo Barelli, Feder Nuoto, Angelo Binaghi, Federazione Tennis, Bruno Cattaneo, Pallavolo, Gabriele Gravina della Federazione. Si ritiene invece che gli eventuali possibili miglioramenti della legge delega, peraltro già approvata da uno dei due rami del Parlamento, debba eventualmente avvenire attraverso una interlocuzione collaborativa, e non con atteggiamenti di contrapposizione scrivono le federazioni che invitano il Presidente del CONI a sottoscrivere con immediatezza il contratto di servizio con le società sport e salute, consentendo in tal modo di dare attuazione ad una legge dello Stato già approvata, garantendo così le attività delle federazioni, discipline associate ai denti di promozione sportiva, tenendo conto anche del particolare momento che vede lo sport italiano impegnato nelle attività di qualificazione alle prossime Olimpiadi. Abbiamo detto delle federazioni firmatari, silenzio invece da parte della Federazione Ciclistica Italiana del Presidente Renato Di Rocco, in attesa che sulla questione si diradi la nebbia creata dalla bagarre parlamentare. Ti vuoi bene? Scegli il latte Soligo Cubi. Cubi è il marchio veneto della qualità verificata. Riprendiamo per l'ultima parte con questo argomento che è di interesse generale, perché quando parliamo di aspetti legati all'ecologia, allo stare bene in questo nostro pianeta, credo che coinvolga la totalità della gente. Ritornando al passato, proprio per quanto riguarda gli aspetti legati alla mobilità, in alcune regioni, in alcune province, in alcuni luoghi, insomma non dappertutto, hanno scelto la gente proprio di spontanea volontà di andare magari in ufficio con la bici, anziché con l'auto. L'opera di sensibilizzazione, per portare ad una generalità di intenti, la gente, da dove potrebbe partire? Quale potrebbe essere l'accorgimento per un'opera di sensibilizzazione totale? Guardi, innanzitutto noi abbiamo un'età in cui possiamo anche ricordare che da giovani ci spostavamo tutti in bicicletta, come giustamente diceva lei prima, acqua, vento, sole, mattina, sera, non c'era distinzione, estate, inverno, si andava via in bicicletta. Il mondo va avanti, cerchiamo tutti la comodità. Potremmo dire usiamo di più la bicicletta, se non altro per questioni di salute, di benessere fisico. Però è interessante alcune esperienze che stanno facendo alcune aziende che premiano i dipendenti che arrivano a lavoro in bicicletta. Hai capito. Questo è uno stimolo molto interessante. Anche alcuni comuni pagano chi va in bicicletta al lavoro. Non facciamo nomi, ma ci sono aziende che organizzano tra i propri dipendenti nella pausa pranzo l'uscita in bicicletta di gruppo addirittura. E sono qui in Veneto, in provincia di Vicenza. Proprio per coinvolgere... Quindi si sono uniti anche di mini spogliatoie e doccia. Assolutamente sì. Per cui coinvolgere la gente ad un maggior utilizzo della bicicletta. Esattamente. Sì, ma io credo che ognuno di noi si renda conto quando si muove in macchina, quanto difficile sia. Soprattutto quando entri nelle città. Ma non solo, anche, guardi, parlo per il trevisiano, ma insomma, anche negli spostamenti, Treviso è una città diffusa, insomma, è una città unica ormai. Beh, si è parlato di area metropolitana, Padova, Treviso, Venezia. Quindi, anche nelle ore di punta, piuttosto che nel pomeriggio, insomma. Se tu sali in macchina, è chiaro che devi mettere in conto di stare mezz'ora per un minimo di spostamento che devi fare. La bicicletta ti rende automaticamente più veloce, ti risolve tanti... e ti fa star bene. Soprattutto ti fa star bene. Credo che anche questo sia un fattore puramente culturale, la voglia di fare anche la fatica, però su questo mi permetto di dire che la bicicletta con la batteria elettrica sta aiutando molto. Anche qui mi raccontava un produttore di biciclette recentemente e mi diceva che su dieci biciclette vendute nove sono elettriche. Quindi, con una crescita esponenziale anno per anno. Quindi, significa che da una parte faccio fare un po' meno di fatica, quindi quello che deve andare magari in ufficio in giacca e cravatta non arriva sudato, non arriva scomposto. E dall'altra parte faccio comunque l'interesse dell'ambiente, faccio del bene a tutti quanti perché non inquino con la mia macchina. Perché una novità è la prova. No, no, è vero. Ma è un mercato che sta crescendo e che sta facendo una parte molto importante. Non dovrà essere soltanto una novità. Stiamo per terminare e prima di concludere il messaggio di Ascotrade e quindi dal presidente ai nostri telespettatori. Prima di chiudere. Il messaggio che Ascotrade si sente di dare, innanzitutto siccome siamo dei commercianti, venite con noi, fate i contratti con noi. E poi ricordatevi che avete una società nel territorio che è attenta a tutto quello che accade, l'abbiamo raccontato, siamo qui che curiamo l'interesse anche dal punto di vista della salute e poi come ricaduta per curare l'ambiente, occuparsi di ambiente, significa anche occuparsi di benessere, quindi con ricadute anche dal punto di vista sociale e sanitario. E poi magari facciamo anche gli auguri a chi deve andare in vacanza nelle prossime settimane. E soprattutto appuntamento domenica a Poggiana di Riese più decimo. Assolutamente sì, non bisogna mancare. Scenderemo tutti sul percorso e sarà un momento... In bicicletta. In bicicletta. È un momento da godere sicuramente a Poggiana di Riese con l'internazionale... Ti era, metti in carica le batterie, tu mi raccomando. Le batterie fisiche. Sì, tu va piedata. Prima di chiudere, che cosa è che abbiamo nel nostro palinsesto, Chiara? Vediamo Andrea, Tina e Roldano con le loro rubriche, per cui prima AmarCord senza freni e più o meno. E poi la sigla per chiudere. Un saluto prima di mandare i servizi. E il nostro appuntamento, cari amici telespettatori, con Teleciclismo torna la prossima settimana. Ci vediamo il prossimo giovedì. Arrivederci. L'energia della natura è l'energia della vita. L'energia della terra è quella delle persone. insieme per un futuro sostenibile. Ascotrade. Luce e gas. Energia dalle nostre mani. Il segno più di questa settimana va ai tanti appassionati di ciclismo che nonostante il grande caldo estivo ogni domenica ritroviamo a bordo strada. Sempre presenti con incrollabile passione per assistere ad uno sprint infuocato o ad un emozionante arrivo in salita. E se il tempo fa le bizze, loro sono attrezzati con tutto. Frighetto e ombrellone con ogni ben di Dio sulla tavola in caso di alte temperature e termos caldi e un ombrello in caso di maltempo. Il segno meno va invece ai vertici del ciclismo nazionale che sembrano aver fatto del ciclismo creativo la loro missione. Assistere la scorsa settimana ai campionati italiani giovanini su pista andati in scena al velodromo Francone di San Francesco al Campo in provincia di Torino è stato un colpo al cuore per tutti gli appassionati di ciclismo. Titoli tricolori assegnati sulla base di accorpamenti tra gare che ben poco hanno in comune e giovani atleti costretti a gareggiare a ripetizione per poi restare con un pugno di mosche in mano. A San Francesco al Campo infatti esordienti allievi in una prima assoluta approvata solo con delibera presidenziale e nemmeno prevista dai regolamenti tecnici federali hanno corso per il titolo italiano Omnium Sprint che sommava i punteggi delle prove velocità che era in 500 metri e 200 metri lanciati e Omnium Endurance che metteva insieme Scratch, Tempo Race eliminazione e corsa a punti. Non restava che mettere in paglio il titolo della corsa con i sacchi e di mosca cieca e la farsa sarebbe stata davvero completa. Se l'obiettivo era risparmiare qualche maglietta tricolore la FCI ci è sicuramente riuscita ma di certo non è questo il modo per promuovere e incentivare l'attività su pista. E noi spettiamo i corridori con le volacce d'acqua fresca dove l'ol mio dove l'olto e mezzo al gruppo noi già pari e la volata che l'è una lama le ruote alte e le gira ancora le braccia al cielo e un basatuti e per la mamma gli è sempre il fior e per la mamma gli è sempre il fior